Vorrei sapere da te in che modo ISTA è uno strumento per recuperare proprio la sua autenticità dell'energia femminile all'interno di un corpo di donna? Allora, vorrei dire che crescere un po' in Italia mi sono ritrovata alcune volte a sentirmi che dovevo rivestire un ruolo e non potevo esprimermi come ero davvero. E ISTA ti permette di collegarti con ciò che è vero per te, quindi con la tua sessualità, con questa sessualità anche innocente, quindi tirare via tutti questi condizionamenti, queste vergogne dell'essere sessuale e riportarti ad essere innocente, autentica e vera, con te stessa e con gli altri. Perfetto. Qual è stata la cosa per te più... la cosa più bella di ISTA in generale, nel tutto il tuo percorso adesso qui in generale, per te personalmente? Qual è stato il regalo più bello che ISTA ti ha dato? Essere... sentirmi accettata nella mia completezza, con le mie luci, le mie ombre, i miei difetti e le mie qualità. Perfetto. Grazie mille Lisa. Prego. Ciao, buona giornata.